In questi casi si parla di utilizzo improprio di luogo pubblico, per quanto non provochi danni effettivi o comunque facilmente rimediabili, ma sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia dei Castelli per mettere un freno ad un gruppo di appassionati di cricket, sport molto praticato nei paesi dell'Asia, ex colonie inglesi, intenti ad adattare al gioco il prato del parco di via Giuriolo, rovinandone inevitabilmente una parte e suscitando più di qualche mugugno a Montecchio Maggiore. Accade spesso infatti nell'area dell'Ovest Vicentina, dove risiedono decine di famiglie di origini asiatiche che si organizzino dei ritrovi tra amici, parenti e conoscenti per giocare a cricket, cosa lecita a parte che il raduno si svolga in spazi appositi. Sabato scorso, nel pomeriggio, un gruppo di cittadini originari dell'India si erano dati appuntamento in via Giuriolo, uniti di mazze, palle e guantoni, a far loro visita poi gli agenti. Erano in sei tutti giovani uomini in procinto di stendere un telo per allestire il campo più o meno regolamentare per dar vita ad una partita a fianco dell'area destinata allo sgambamento degli amici a quattro zampe, una condotta, quella del gruppo, che si ripeteva evidentemente e che ha portato ad ostacolare la crescita dell'erba sul prato. Inoltre nessuno tra loro aveva chiesto l'autorizzazione al comune, motivo per cui è stata combinata un'ammenda, i quali per gli amanti del cricket, i quali cercheranno uno spazio alternativa chiedendo prima il permesso.